salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi siamo con il secondo giorno della sesta settimana e andremo a allenare le braccia cominciamo con i bicipiti ovviamente come sempre caldo bilanciere ragazzi sentite bene 38 kg faremo quattro serie scusate tre serie per cinque ripetizioni ovviamente prima ci andiamo a pesare ovviamente ragazzi 60.55 kg siamo rimasti quasi uguali siamo aumentati solo di 50 grammi grasso corporeo 14,2 per cento abbiamo un aumento di 50 grammi è una perdita del 0,4 per cento di massa grassa ovviamente rispetto all'episodio precedente bene ragazzi secondo esercizio abbiamo ovviamente presa martello invece di 26 kg adesso ne facciamo 28 sempre 3 serie per 8 ragazzi adesso come terzo esercizio faremo caldo e capo basso 5 ragazzi ovvero un braccio per volta faremo 3 serie per 10 ripetizioni ovviamente il peso 8 è un po' più Grazie a tutti. Ovviamente ragazzi come ultimo esercizio abbiamo reverse curl, poi ci vediamo con i forcibidi. Grazie a tutti. Ragazzi secondo esercizio per precipiti abbiamo le... come si chiama questa la corda? Mi dimentico sempre il nome degli esercizi. È incredibile ragazzi, io non ci posso credere. Questo esercizio qua con la corda, vi scrivo il nome tanto non vi preoccupate. Faremo tre serie per 10 con 20 kg. Ragazzi terzo esercizio abbiamo push down presa inversa. Con 18 kg anziché vendi perché è con la barra di trazione come potete vedere, quella della Rat Machine. Ragazzi ci vediamo all'esercizio. 3 serie per 8 con 18 kg. Ragazzi come ultimo esercizio abbiamo spinte su panca piana. diventa 40 kg ci facciamo un bel 3 per 8. ragazzi allenamento terminato. io vi lascio al check fisico e ovviamente ragazzi ci vediamo al prossimo episodio. Oggi però non mi sento proprio così tanto soddisfatto di questo allenamento. avremmo potuto fare il meglio. Vabbè sono momenti che capitano. Alla prossima ragazzi. Forogazion! Ciao! Grazie a tutti.